Lo sviluppo economico dell'Albania, strategie in prospettive europee e cooperazione con il territorio toscano. Il 25 ottobre a Sansepolcro, al Borgo Palace Hotel, si svolgerà un interessante convegno su questi temi economici, sulla cooperazione economica europea, le prospettive quindi che si aprono anche per il territorio e per Sansepolcro. Il convegno è organizzato tra gli altri e principalmente dall'Ital Group. Ne parliamo allora intanto con l'ingegnere Luca Romolini. Buongiorno. L'iniziativa che abbiamo messo in campo consiste nell'accogliere nel nostro territorio la visita di una delegazione del governo albanese. Si tratta di un'iniziativa importante volta alla divulgazione di quello che è lo sviluppo economico che da qualche anno sta interessando il territorio albanese. E' un'iniziativa importante per portare anche a conoscenza degli operatori economici e produttivi del nostro territorio le prospettive che si aprono oggigiorno in campo europeo e i possibili investimenti inerenti a progetti di sviluppo e cooperazione. La delegazione albanese sarà presente nel nostro territorio a Sansepolcro per tre giorni, dal 24 al 27 ottobre, giorni che saranno dedicati agli incontri con i nostri rappresentanti dell'associazione di categorie produttive e con alcuni imprenditori locali. Nell'ambito di questa iniziativa è stato organizzato un evento il 25 ottobre presso il Borgo Pallas Hotel per divulgare la situazione dello sviluppo economico che sta interessando l'Albania e quindi a portare a conoscenza, come aveva detto Paganzi, quelle che sono le opportunità di investimento in materia di sviluppo economico e di cooperazione. Sono coinvolte le istituzioni, la società civile e le categorie su queste tematiche? All'evento parteciperanno tutte le associazioni di categorie con i loro presidenti, la Camera di Commercio, il Confindustria, Confartigianato, CNA e Coldiretti. I promotori dell'evento sono i club e i servizi di Sansepolcro, il Lions Club di Sansepolcro, il Rotary Club, il Sorottimis e la FIDAPA. Oltre all'associazione La Rata Toscana, che è la rete albanese toscana, a cui poi va aggiunto anche il patrocino della regione toscana e di tutte le istituzioni locali dei nostri enti territoriali. La delegazione albanese è composta dal Vice Ministro dell'Economia Albanese, l'On. Pascali, dal Presidente della Commissione di Attività Produttive del Parlamento Albanese, l'On. Scalzi, dal Consile Generale della Sede di Bari, il Dottore Dreda e dalla Direttrice dell'AIDA, che è un'agenzia governativa del Ministero dell'Economia. Un'agenzia importante per gli investimenti e lo sviluppo del territorio albanese, che offre servizio a tutti gli imprenditori interessati ad investire nel territorio dell'Albania. Ecco, allora parliamo con l'architetto David Gori di questa realtà, insomma, l'Albania che si affaccia via questo processo di inclusione e di integrazione europea, quindi queste prospettive che si aprono, oltre anche la Toscana, insomma, come altre regioni d'Italia, che è coinvolta. Sì, l'Albania è una realtà che noi abbiamo scoperto circa un anno e mezzo fa, con un primo viaggio di contatto che avevamo per alcuni progetti di cooperazione e abbiamo scoperto una realtà importante, nuova, che si affaccia anche nel panorama europeo, perché da marzo è stata inserita come candidato ufficiale all'ingresso in comunità europea e quindi credo, non vorrei sbagliare, ma entro il 2016 dovrebbe avere questo ingresso ufficiale in comunità europea. È una realtà che, con questo nuovo governo che è in carica da poco più di un anno, sta cercando di cambiare veramente volto al Paese con una spinta fortemente innovativa, europeista, rivolta anche all'attrazione di investimenti esteri e il Premier di Rama sta facendo un'azione coordinata con i ministeri, di cui avremo una rappresentanza, come ha detto l'ingegner Romolini, molto nutrita dal Ministero dell'Economia, attività produttive, che coinvolgeranno tutte le categorie imprenditoriali anche nel nostro territorio. Sono già attivi in Italia, in particolar modo su tre regioni, il Veneto, la Toscana appunto, ma anche la Puglia, la Puglia molto attiva perché hanno anche questo, geograficamente, questo rapporto di vicinanza, molto vantaggioso per loro e tra l'altro tra gli interventi più tecnici della seconda parte del seminario che si farà arriverà anche il Presidente dell'Aviazione Marittima Italiana perché è stato già stipulato degli accordi a fini turistici per la realizzazione di alcune aviosuperfici in territorio albanese, in particolare sulla costa sud. La costa sud è anche quella che ha la maggior attrattiva a scopo turistico perché è una costa veramente molto bella, noi l'abbiamo visitata già tre o quattro volte e stiamo incentrando un progetto tipo di insediamento turistico, diciamo, secondo i cani di moderni, di villaggio turistico che la manca come struttura. E' una costa che però ha la sola pecca ancora di essere un pochino difficilmente raggiungibile perché c'è l'unico aeroporto che è Tirana e quindi questo progetto che verrà illustrato dovrà creare anche le sinergie giuste per superare queste barriere. Ecco, l'Ital Group è uno studio di progettazione e consulenza che sta lavorando quindi per aprire queste prospettive a livello dell'economia, poi locale e a livello internazionale. Sì, stiamo lavorando su più fonti, l'Albania anche per noi è stata la prima meta per la vicinanza geografica, anche la facilità di approccio, in Albania parlano la nostra lingua molto bene, sono predisposti culturalmente a una collaborazione stretta con l'Italia, c'è un'ambasciata italiana molto attiva già con molti progetti di cooperazione che hanno già coinvolto tanti imprenditori anche del nostro territorio e quindi è uno dei progetti che è partito con questo nostro gruppo.